Grazie signori, sono veramente felice di essere qui in vostra compagnia, di cantare 4-5 canzoni insieme al mitico Marco Zeta in questo bellissimo posto. Io vorrei farvi sentire una canzone a cui ci tengo particolarmente, perché questa canzone mi è stata data dal maestro Franco Bagutti subito, appena sono arrivata in sala di registrazione, dovevo, insomma, bisognava creare un repertorio, no? Però vado in sala di registrazione e il maestro Franco Bagutti dice, ci sarebbe una canzone, una canzone che da più di 20 anni che non si fa più, la cantava la mitica Patrizia, questa canzone si chiama Chissà, è da più di 20 anni che non si faceva e lui ha deciso di farmela provare, no? Io inizio a cantarla e lui si è emozionato, bellissimo, da domani la fai. E quindi così è cominciata questa vittura, con questa bellissima canzone e io ho proprio il piacere di farlo ascoltare, Chissà, della mitica Patrizia. Grazie. 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 Grazie.